Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video, buona vista a vostra cattoreglia della pegna malbuena e spindosa di Santiago de Compostela in spagnolo E eccoci qui in un nuovo video, un saluto agli indipendenti 2.0 in spagnolo l'abbiamo detto perché io so internazional e quindi sei internazional ma gli indipendenti salutiamo perché loro propongono buoni post e belle ragazze nei post e quindi sono dei bravi e bei ragazzi naturalmente come tutti noi e quindi saluto Lorenzo, Antonio, Alessandro, Alessandro, Samuele, Valerio e insomma siamo una bella serata qui, siamo qua al bar Clata Caffè vicino Saluto Lorenzo Fusco ecco intanto, ciao Ciao io indipendenti 2.0, indipendenti vai, ancora ancora e vabbè d'accordo e insomma possiamo terminare il video salutando ancora anche qualcun altro, Tommaso Romanzi perché vuole essere salutato Saluto Romanzi, ciao, buona prima